Tra le mozioni oggi discusse in aula, una mozione a firma congiunta a Leonardo Zaffiri che chiedeva di recepire la risoluzione del Parlamento Europeo, risoluzione molto discussa, sui totalitarismi. Sì, chiedevamo di recepire la risoluzione del Parlamento Europeo che condanna tutti i totalitarismi della storia europea, quindi dal nazismo fino anche ai fenomeni del comunismo. Questo perché come radice culturale unica di condanna si potesse poi trasmettere anche alle nuove generazioni un sentimento condiviso che portasse ovviamente a non ripetere questi drammi che hanno purtroppo caratterizzato il secolo passato della nostra Europa. Dispiace che sia prevalso un modo ideologico di porsi alla questione, tanto che poi la risoluzione è stata bocciata e sia stato il pretesto per gettare delle accuse infondate ed infamanti nei confronti di chi è esponente del centro-destra.